Sarà forse stata scomoda la domanda fatta dalla nostra redazione al segretario comunale di Favara, Pietro Amorosia? L'interrogativo ci sorge spontaneo dopo la risposta ricevuta dallo stesso dirigente comunale. Ci spieghiamo meglio. Nell'ultima seduta a consigliare, i membri di Aula Falcone e Borsellino erano chiamati a esprimersi sulla proposta di interpretazione autentica del regolamento cimiteriale avanzata da 13 consiglieri comunali. Proposta che, ricordiamo, non è passata con 11 voti favorevoli, 11 contrari e un astenuto. Stamattina la nostra redazione ha chiesto l'Umi al segretario dopo la recente discussione in Consiglio. La domanda respinta dalla segretario è stata questa. Visto che la proposta presentata dai 13 consiglieri comunali di Favara sull'interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 75 bis del regolamento cimiteriale non è stata bocciata ma semplicemente non è passata, questi consiglieri possono eventualmente ripresentare più avanti la stessa proposta? Non vediamo nulla di scandaloso nell'avergli formulato questo quesito che, tra l'altro, la stessa sera del Consiglio era stato già avanzato da qualcuno tra i presenti. Il segretario comunale Pietro Amorosia per tutta risposta afferma «Lei faccia la giornalista e racconti quello che è successo. Non rispondo a questa domanda che non è pertinente al ruolo di giornalista. Se vorranno, la faranno i consiglieri comunali». Una risposta che, sinceramente, non ci saremmo aspettati da un uomo di legge e garante della legalità e correttezza amministrativa perché riteniamo essere assolutamente lecita e legittima per chi come noi, giornalmente, si sforza a informare i cittadini su cosa accade. Semplicemente, volevamo capirci meglio. Proprio per questo abbiamo rivolto la stessa domanda ad un altro segretario comunale che, senza alcun problema, ci ha detto che la proposta potrebbe essere ripresentata purché riporti elementi di novità. Ricordiamo all'attuale segretario del Comune di Fevara che il nostro compito è quello di sapere e informare la città e noi è questo quello che vogliamo continuare a fare. Giornalisti siamo e giornalisti vogliamo essere. Rispettiamo comunque il silenzio del segretario comunale anche se, ripetiamo, non riusciamo a capire questo blocco del primo dirigente comunale premiato tempo fa dal sindaco per gli obiettivi raggiunti.